Sia Mancina con Belluni che la mette a terra, serve indietro il pallone per Verde che di prima intenzione la mette al centro, colpo di testa di Matteo Ardemagna, ancora attento Iacobucci, meno attento poi il portiere quando perde ingenuamente questo pallone, lo regala Richard Latic che con un pallonetto regala il vantaggio a Lavellino. Lupi quindi in vantaggio grazie a questa papera del portiere Iacobucci, bravo Lasic a sorprenderlo con questo pallonetto che regala il vantaggio a Lavellino quando siamo al ventiseiesimo del...